Un video di 30 o 60 secondi su uno dei primi 54 articoli della Costituzione italiana. Questo è l'oggetto di un nuovo concorso per le scuole bandito dal Consiglio regionale del Piemonte attraverso il Comitato Resistenza e Costituzione e dall'Ufficio Scolastico regionale. L'iniziativa è diretta agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori del Piemonte. Il video deve essere incentrato su uno degli articoli della Costituzione compresi nei principi fondamentali e nei diritti e doveri dei cittadini. La consegna del filmato deve avvenire entro il 20 aprile prossimo all'Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte di via Pietromicca 20 a Torino.